Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di SOS Genitori. Sono Marco Catania, psicologo, e oggi parleremo di disturbi alimentari. Sì, perché in questo periodo di lockdown, chiusura, diminuzione dei contatti sociali, c'è stato un gran parlare di quelli che sono i disturbi d'ansia, i disturbi depressivi, che in questo periodo storico sono chiaramente aumentati. Un argomento invece che è stato molto poco trattato, di cui si è parlato, molto poco, è quello dei disturbi alimentari, ovvero delle problematiche legate al rapporto col cibo, almeno da un punto di vista sintomatologico, che sono incrementate in quest'ultimo periodo. Nello specifico, quindi, in questo video, oggi faremo qualcosa di diverso rispetto a quanto ho fatto nei vari video precedenti, ovvero andremo non tanto a vedere delle soluzioni, come fare questo, come fare quello, ma il scopo di questo video è quello di essere un video informativo, cioè acquisire delle conoscenze di un argomento spesso poco conosciuto, in modo da poter riscontrare se ci sono dei campanelli d'allarme in casa propria e quindi potersi rivolgere chiaramente la figura specialistica più adatta per poter contenere o risolvere un eventuale problema. Nello specifico, quindi, andremo a parlare di disturbi alimentari, di disordini alimentari, ma facendo intanto una differenza, perché molto spesso si è sentito parlare, in generale, di disturbi alimentari, quindi legati all'anoressia, alla bulimia, che sono quelli più conosciuti e sono spesso identificati dal grande pubblico, dalla massa, come disturbi che è possibile riscontrare in un'età adolescenziale o adulta. Questo format SOS genitori è rivolto appunto ai genitori e i genitori non hanno solo figli adolescenti o semi-adulti, giovani-adulti, ma hanno anche figli più piccoli. Ebbene, anche in quella fase in realtà è possibile riscontrare dei disturbi della sfera alimentare. In questo caso andiamo a parlare però di disturbi della nutrizione. La differenza tra un disturbo della nutrizione e un disturbo alimentare rientra nella capacità del soggetto di alimentarsi da solo oppure no. Quindi quando parliamo di una fascia di età più piccola, come può essere quella appunto dell'elementario o anche prima, siamo in una sfera di disturbi della nutrizione, perché il bambino solitamente non è in una condizione dove si alimenta in maniera autonoma. Nella maggior parte dei casi, in questo tipo di disturbi, adesso andiamo a vederne anche qualcuno, il problema non è nel rapporto col cibo in sé per sé, ma è un problema di sistema. Andremo a vedere più avanti cosa voglio dire. Quindi andiamo a vedere un po' intanto quali sono i principali di questi disturbi, alcuni dei più famosi, dei più conosciuti o di quelli che andrebbero conosciuti. Il primo è sicuramente il disturbo pica. Il pica è un tipo di disturbo alimentare o della nutrizione, in questo caso, dove il bambino va ad ingerire sostanze non nutritive. quindi può mangiare la plastica, la carta, mette in bocca oppure pezzi di giocattoli, eccetera. Ora, attenzione, stiamo parlando di ingestione. Il fatto che il bambino prenda un pupazzetto e lo mastichi e lo mette in bocca non è un pica. Se una volta è capitato che tuo figlio ha mangiato un pezzo di carta o di plastica, non è un disturbo da pica, chiaramente. Stiamo parlando di una condotta che è continuativa. Stiamo parlando di una ricerca di quella sostanza, ripeto, non nutritiva, quindi carta, plastica o altre cose che appunto non rientrano nella categoria del cibo. E c'è una ricerca di questa sostanza, di questo alimento che viene cercato, viene ingerito. Quindi mettere in bocca il pupazzetto non è un problema, o meglio, non dovrebbe esserlo. E questa condotta deve essere ripetuta nel tempo. Un'altra tipologia di disturbo è quello del disturbo da ruminazione, dove il bambino, l'infante o la bambina mette in bocca il cibo, lo mastica, poi sputa il bolo, rigurgita questo bolo e lo va a riprendere. E ripete questo ciclo. Anche qui, attenzione, non voglio creare allarmismi, non è questo lo scopo del video. Quindi se tuo figlio, dopo aver mangiato, ha un rigurgito, può capitare. Non stiamo parlando di una sfera di disturbo o di problematica, se accade una volta. Se invece vediamo che questa modalità di mangiare, rigurgitare, poi magari riprendere il bolo, continuo nel tempo, allora può essere un segno di un eventuale problema. Non è detto che siamo ancora in una sfera di disturbo, ma è sicuramente un elemento da attenzionare. E un'altra sfera data in considerazione è quella dell'anoressia. L'anoressia è una parola che spesso fa molta paura e che è spesso indicata quando parliamo dell'adolescente o del giovane adulto dell'adulto. In realtà, anche se in maniera chiaramente più blanda, con percentuali molto più basse, è stata riscontrata la possibilità di un disturbo alimentare tipo anoressia anche in fasce d'età più piccole. Parliamo anche di casi di bambini o bambine di 7-8 anni. Anzi, proprio nella fascia così piccola si è riscontrato che è più facile che sia un disturbo legato al genere maschile, mentre di solito nella fascia adolescenziale o adulta è più un disturbo legato al genere femminile. Quindi non è impossibile che vi sia un disturbo del genere anche in età infantile o in età evolutiva. I sintomi sono gli stessi, ma adesso li andiamo un po' ad approfondire, andiamo a vedere un po' in generale quali sono alcuni campane di allarme, ma è molto importante tenerli sotto occhio, poterli attenzionare o notarli se li abbiamo davanti. Se già il disturbo di anoressia in età adolescenziale, in età adulta è collegato a degli svolti molto negativi, in età infantile le conseguenze possono essere disastrose, anche portando degli effetti irreversibili nello sviluppo fisico del bambino o della bambina, motivo per il quale attenzionarne i campani di allarme diventa fondamentale. Ora, perché stiamo parlando di disturbi alimentari? Ripeto, perché in questo periodo storico è probabile riscontrare alcuni di questi sintomi, alcuni di questi elementi, perché è un disturbo che è andato ad incrementare. Quando parliamo di tipologie di disturbo alimentare non stiamo parlando di un disturbo che ha a che vedere con la singola persona, il singolo rapporto col cibo, o almeno questo è quello che può accadere da un punto di vista puramente sintomatologico, ma di solito parliamo di un qualcosa che ha a che fare con la sfera all'interno della quale il bambino o la bambina è inserito, quindi sistemico. Perché lo sottolineo? Perché l'intervento può essere di diverso tipo. In alcuni casi l'intervento può essere fatto direttamente sul bambino, in altri casi si tende a lavorare con il genitore che diventa co-terapeuta per la risoluzione o per il tamponamento, per il contenimento di un'eventuale problematica alimentare. E poi c'è un'altra, spesso sottovalutata, che è quella dell'obesità infantile. Infatti quando parliamo di anoressia, di bulimia, di pica o di disturbi di illuminazione sono disturbi, fanno preoccupare come giusto che sia e fanno mettere in moto il genitore per poter salvaguardare la salute del figlio e della figlia. Mentre quando si parla di obesità infantile, da un punto di vista sociale, ahimè, questo sembra essere un po' più accettato, la condizione dell'obesità sembra passare un po' più inosservata. Di fatto le statistiche ci dicono che l'obesità infantile è nettamente in aumento di anno in anno e viene meno tenuta in considerazione in quanto non seria, o almeno non ritenuta seria. Eppure l'obesità infantile che è in costante aumento è ampiamente correlata anche con il successivo sviluppo di disturbi della nutrizione o dell'alimentazione dopo. Più tutta una serie di problematiche fisiche che non sto qua a spiegare perché rientrano nel campo medico. Andiamo a vedere adesso alcuni dei campanelli d'allarme che possono farmi identificare la difficoltà o di un disturbo alimentare in casa, in mio figlio o mia figlia. Il primo è un indice di massa corporea insolitamente alto o insolitamente basso. Cioè se mio figlio o mia figlia è eccessivamente grasso, eccessivamente magro, quindi nel rapporto chiaramente con l'altezza, rispetto alla sua fascia d'età, rispetto alla media della sua fascia d'età, è opportuno consultare uno specialista, il pediatra in questo caso, per confrontarsi con lui e capire se è una fase transitoria, se è dovuta a qualcosa nello specifico o se è un campanello, se è un indice di qualcosa che non va nel comportamento alimentare. Diete o pratiche alimentari restrittive spesso autoprescritte, autocreate ed autosomministrate. Chiaramente se la dieta è data da un nutrizionista, ovviamente stiamo parlando di un percorso terapeutico. Quando invece la persona in piena autonomia inizia ad avere dei comportamenti di restrizione nei confronti del cibo, potrebbe essere un indice. Attenzione, sottolineo, potrebbe essere un indice. Non è che se il ragazzino o ragazzina vuole dimagrire un po' e cerca di evitare qualche cibo, allora c'è un disturbo alimentare dietro. Non dobbiamo diventare paranoici, ma notare quando alcuni segnali possono essere indicativi. Cambiamenti repentini ad esempio nel comportamento alimentare possono essere un indice da attenzionare. Cosa vuol dire il cambiamento repentino? Un passaggio repentino improvviso da questo smetto di mangiarlo, non mangio più i carboidrati, non mangio più quello, non mangio più quell'altro. Nel caso già di ragazzini e ragazzine più grandi o nel bambino un po' più piccolo, smettere di mangiare alcuni tipi di cibi. Possono essere indice. Non mangio più questa cosa, il pesce non lo mangio, la frutta non la mangio, la verdura non la mangio, quello non lo mangio. Possono essere indicativi. Attenzione, qua è facile potersi confondere perché è tipico nella fase di sviluppo attraversare alcuni momenti di capriccio a tavola, quindi questo non lo voglio mangiare, questo è verde, non mi va. Ovviamente, come già detto anche in altri video o per altri argomenti, bisogna sempre essere attenti a non scambiare un piccolo segnale per un fuoco. I cambiamenti repentini nel comportamento alimentare implicano un grosso cambio. Se mio figlio fa il capriccio, no, i broccoli non li mangio, chiaramente è molto difficile che quello sia un indice di disturbo alimentare. Può significare qualcos'altro eventualmente. Un altro elemento, questo vale per quelli un po' più grandicelli, un altro elemento che è molto significativo è quello di un comportamento di ritiro sociale, soprattutto da situazioni che coinvolgono il cibo. Chiaramente in questo momento storico questo è meno attenzionabile, ma in un contesto in cui è possibile uscire, muoversi il ragazzino, l'adolescente con disturbi alimentari, soprattutto di tipo amoressico, tende a evitare le uscite per mangiare la pizza o per fare l'aperitivo con gli amici. Infine, un altro elemento è la comparsa di disturbi mestruali o gastrointestinali. Anche in quel caso, chiaramente, il rivolgersi al medico competente il prima possibile, a prescindere dalla possibilità di un disturbo alimentare o meno, ma sono dei segnali che possono indicare una condotta alimentare problematica o con dei disturbi dietro. Ora, io mi rendo conto che questo video è stato diverso rispetto a quelli visti finora, rispetto a quelli trattati finora, quindi magari se vuoi lasciare nei commenti un tuo feedback per capire se è una tematica che vuoi che venga approfondita ancora o è un tipo di format che preferisci, cioè quello di approfondimento, io sono ben lieto di ricevere questi feedback. Però prima di lasciarci, cosa posso fare se c'è una difficoltà alimentare, se c'è un disturbo alimentare o un presunto disturbo alimentare? A chi mi devo rivolgere? Anche qui la cosa è un po' complicata. Esistono diverse figure professionali che lavorano nell'ambito dei disturbi alimentari, ognuna con le sue competenze specifiche, ognuna capace però di discriminare se il disturbo è di sua competenza o se indicarti un altro specialista. Abbiamo sicuramente il pediatra, che è la prima porta a cui rivolgersi, perché sarà capace di discriminare il tipo di condotta alimentare a cui siamo davanti e indirizzarti verso un altro specialista, che può essere lo psicologo, lo psicoterapeuta, il neuropsichiatra infantile o il nutrizionista, oppure più semplicemente in casi più gravi, più conclamati, rivolgersi direttamente a un centro per disturbi alimentari dove le diverse figure lavorano in equip. Non esiste una di queste scelte che è giusta mentre le altre sono errate, dipende sempre dal caso specifico che abbiamo davanti. La parte importante, la cosa importante è che se tu noti delle difficoltà, dei campanelli d'allarme, qualcosa che non quadra, è intanto rivolgerti a uno di questi professionisti che ti deve ispirare chiaramente fiducia nel suo modo di porsi e di lavorare e lui o lei sarà in grado di capire se è il suo campo di lavoro o se è meglio indirizzarti da qualcun altro, in modo da poter essere eseguita in maniera seria, professionale ed evitare che un campanello d'allarme diventi un disturbo o possa evolvere in qualcosa di spiacevole. Detto questo io ti ringrazio per l'attenzione che hai avuto per seguire il video fino adesso e ti invito a mettere un mi piace a questo video e a condividerlo se credi che il contenuto sia importante, rilevante o possa essere d'aiuto a qualcuno dei tuoi amici. Ci vediamo venerdì prossimo con un'altra puntata di SOS Genitori sempre qui sul canale di Tecnica della Scuola e come sempre ti invito a lasciare dei commenti per dare dei feedback rispetto al video o per fare delle domande se possibile ti risponderò oppure per indirizzare verso qualche argomento che preferisci venga trattato in futuro. Ok? Ti ringrazio per l'attenzione, ciao e alla prossima! Grazie a tutti!